Le tue impressioni su questa gara, sul Teramo che tu hai visto? Sinceramente ho visto un buon Teramo, abbiamo fatto un buon test, un buon allenamento in vista delle partite che contano dalla prossima settimana. Ho visto un buon Teramo, stiamo mettendo su minuti, stiamo giocando secondo me un buon calcio e dobbiamo continuare su questa strada. Il fatto che tu non abbia svolto tutta la preparazione stasera non si è visto, sei d'accordo? Sì, sinceramente sono soddisfatto perché comunque mi sto allenando da una settimana e è chiaro che sono un po' indietro nella condizione fisica. Sicuramente è stato un buon test soprattutto per me perché appunto era la prima amichevole che facevo, devo mettere su minuti e niente, sono contento così. Si dice sempre che nel calcio d'agosto non contano i risultati ed è verissimo, però rompe un po' le scatole perdere così. Sicuramente, sicuramente quando si è in mezzo al terreno di gioco si gioca per vincere, che sia un amichevole o che sia campionato appunto. Purtroppo stasera è andata così, però penso che dobbiamo guardare il lato positivo, che abbiamo fatto una buona partita, che abbiamo giocato bene. Poi il risultato è quello che è stato, potevamo vincerla come potevamo perderla, però guardiamo le cose che in questo momento contano, aver messo su minuti e aver giocato bene.